Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Amadeus è sposato e oggi sua moglie Giovanna ha parlato a libro aperto del tradimento subito Il racconto incriminante.Amadeus e la moglie Giovanna sono legati da molto anni e il loro rapporto è più che unico Infatti due, nonostante gli alti e bassi che tutte le coppie vivono, continuano ad amarsi più che mai Sul social infatti condividono il loro profilo Instagram. Hanno deciso dunque di evitare di avere due profili, ma di tenerne uno per entrambi così da condividere sullo stesso profilo i contenuti creati da ognuno dei due Di recente sono venuti fuori i racconti della moglie di Amadeus, Giovanna, la quale ha raccontato dei tradimenti reciproci che sono avvenuti durante la loro relazione Ecco dunque tutti i dettagli che conosciamo.Amadeus, la moglie racconta del suo tradimento Tutti sotto SoC.Innanzitutto chiariamo l'eventuale fraintendimento, Amadeus e Giovanna non si sono traditi, ma al contrario raccontano come reagirebbero se entrambi scoprissero il tradimento dell'altro Le loro risposte infazzi sono state del tutto spiazzanti e inaspettate Ecco dunque le loro parole in merito ad un eventuale tradimento Inizialmente Amadeus racconta di come reagirebbe nel caso in cui la moglie Giovanna lo tradisse Potrebbe interessarti anche, Amadeus, chi è e cosa fa la splendida figlia 30enne La domanda arriva dalla presentatrice televisiva Paola Perego, la quale domande dalla coppia come reagirebbero in caso di tradimento Chiede alla coppia di rispondere tramite video eseguito nel loro nido d'amore, a casa Il primo a rispondere è lo stesso Amadeus che dice Se Giovanna mi tradisse, verrei comunque a saperlo, quindi non mi cambierebbe molto Giovanna Civitillo invece, alla fatidica domanda invitata da Paola Perego ha risposto Se scoprissi che mio marito mi ha tradito? Gli potrei preparare le valigie per fargliele trovare fuori dalla porta Gli utenti restano dunque senza parole e stupiti dalla risposta di Giovanna che ancora una volta ha dimostrato di possedere un forte carattere Per loro fortuna però, queste affermazioni non derivano da fatti accaduti, ma solo ciò che pensano della cosa Questo perché la coppia si ama molto e lo dimostrano ogni giorno Potrebbe interessarti anche, Amadeus, l'ossessione incurabile da cui non riesce a uscire fuori, ecco la verità Che ne pensate? Voi invece come reagireste? Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao Ciao